Musica Sarà questa una puntata di cronache e commenti interamente dedicata al Consiglio regionale straordinario che si è svolto lo scorso martedì e che aveva come tema l'autonomia differenziata. Nella settimana passata il Consiglio aveva infatti rinviato il dibattimento in una seduta dedicata ad un tema che vede coinvolte cinque regioni in Italia che hanno chiesto la possibilità di attuazione di questa nuova legge entrata in vigore da poche settimane. Ebbene andiamo ad ascoltare i commenti, tutto quello che è successo in questo Consiglio regionale straordinario dove praticamente tutti i gruppi politici hanno parlato, hanno detto la loro opinione e prima però di andare ad ascoltare come sempre le voci dei consiglieri regionali e dei protagonisti di questa puntata andiamo a capire meglio quello che è successo in aula. Si farà il referendum abrogativo per l'attuazione in regione dell'autonomia differenziata. Il Consiglio ha approvato a maggioranza le due proposte presentate dal PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Respinti invece i due ordini del giorno presentati da Fratelli d'Italia che volevano impegnare il Presidente Gianni a proseguire nella contrattazione con il Governo per l'autonomia senza passare dal referendum. Se dovesse passare il sì al referendum da parte dei cittadini la legge darà autonomia di legiferare su alcune materie come il lavoro, la ricerca, la salute, l'energia, l'ambiente e l'istruzione. In totale sarebbero 23 le materie su cui la Regione potrebbe chiedere autonomia rispetto al Governo. Non solo, alcune risorse economiche interne potranno essere trattenute per poterle spendere internamente alla Regione. Acceso il dibattito in aula, referendum dunque che si farà, saranno poi comunicate le date. Devo dire che la strada del referendum abrogativo è quella più giusta perché siano i cittadini a decidere. Se vogliamo, come il fronte progressista vuole, un'autonomia, un regionalismo eco e solidale che dia alle Regioni competenze, ma competenze che si esercitino distribuendo bene, in modo eco, le risorse in modo che non vi siano squilibri fra Nord, Sud o all'interno delle stesse regioni, fra aree interne e grandi centri metropolitani. O invece si voglia un'autonomia che è chiamata differenziata, peraltro nella Costituzione, all'articolo 116, terzo comma, non è mai citato il termine differenziata, che crea delle autarchie fra le 20 regioni, ovvero quello che si ha poi si rimette e contemporaneamente quindi chi è più ricco sarà sempre più ricco, chi è più fragile ha bisogno poi di interventi forti dello Stato perché il meccanismo della redistribuzione li porta ad essere sempre più fragili. È stato un dibattito serio, un dibattito appassionato con punti di vista differenti. È evidente che l'autonomia differenziata spacca l'Italia, aumenta le disuguaglianze tra Nord e Sud, tra aree interne e grandi città. Alla fine abbiamo 20 piccole Italie più deboli. Noi abbiamo chiesto ed ho lavorato in queste settimane insieme ai Presidenti dei Consigli regionali affinché ci fossero due proposte di delibera, una per abrogare totalmente la legge e una per abrogarla in parte. Noi sostanzialmente chiederemo ai cittadini e alle cittadine del nostro Paese di esprimersi perché noi vogliamo un'Italia che non lascia indietro nessuno, vogliamo costruire le condizioni per cui un bimbo che nasce nel borgo più piccolo di un Paese del Sud, di un'area interna e abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze. Un dibattito in aula direi quasi interamente fatto dai consiglieri di opposizione, un centro-sinistra che non capiamo se non ha letto la legge e quindi non ha sostanza su quelle due PDD che ci porta oggi all'attenzione dell'aula o seppure ha timore che il Presidente Gianni possa tenere a sé una serie di materie come per esempio la geotermia, abbiamo visto come sta gestendo l'eventuale rinnovo delle concessioni o comunque la cultura, il tema dell'istruzione e del turismo. Quindi un silenzio quasi assordante interamente composto dai consiglieri di maggioranza in aula oggi. Noi ribadiamo invece il pieno sostegno alla legge Calderoli, il pieno sostegno al governo, il pieno sostegno alla legge sull'autonomia differenziata che crediamo essere un valore aggiunto che la Toscana potrà avere su alcune materie importanti. Io penso al tema della geotermia, penso al tema dei porti, penso al tema del turismo, penso al tema della cultura, una Toscana fatta piena di cultura, piena di musei, gestiti molto spesso anche dallo Stato centrale che rimangono chiusi anche in orari in cui invece magari la Toscana potrebbe garantire delle aperture ulteriori. Penso a tantissime tematiche che fanno belle alla nostra regione e che avrebbero bisogno di una gestione più vicina al cittadino, più vicina al territorio e quindi una gestione più regionale rispetto a una gestione centrale dello Stato. Siamo convintamenti a favore della legge, siamo sicuri che la legge andrà avanti e siamo anche sicuri che queste giravolte del Presidente Gianni, che prima del Presidente Rossi e poi del Presidente Gianni, che chiedono l'autonomia differenziata da tantissimi anni, porteranno anche alla regione toscana la richiesta di una serie di materie di competenza e quindi a far sì che la Toscana abbia più risorse e più autonomia su tanti temi che a tutti i toscani stanno a cuore. È fondamentale in questo momento storico della Repubblica unire tutte le forze civili e politiche per evitare quello che è uno smembramento dello Stato italiano, perché questa è l'autonomia differenziata e con il combinato disposto del premierato diventa chiaro che non è utile al cittadino medio, toscano come calabrese e come veneto. È utile soltanto a una compagine politica, quella che adesso sta governando il Paese, che desidera avere un controllo assoluto anche dividendo ulteriormente l'Italia. Faccio solo una riflessione che dovrebbe far riflettere tutti i governatori delle regioni, tutti i politici e anche alcuni del centro-destra che già si sono espressi contro. In questi anni, in questi decenni, si è investito molto da parte del Governo centrale per cercare di superare le differenze territoriali. Ancora oggi l'Unione Europea ci chiede uno sforzo ulteriore per superare le disuguaglianze all'interno di un territorio di respiro più ampio che è quello dell'Unione. Questa proposta di legge, che è formulata nel modo più sbagliato possibile, addirittura senza ancora la formulazione dei livelli essenziali di prestazione non solo in sanità ma anche su altri aspetti, va esattamente nella visione opposta. Un italiano oggi si sposta dalla Toscana alla Lombardia, alla Sicilia o ad altre regioni con una differenziazione enorme per quelli che sono i servizi e la tutela dei diritti minimi a cui deve invece avere possibilità di accedere in quanto cittadino italiano tutelato dalla Costituzione. Questi sono già sufficienti come principi. Se andiamo poi ad andare a realizzare col modo in cui è stata proposta l'autonomia differenziata e gli intenti che ci sono dietro, ecco io credo che qualunque cittadino oggi dovrebbe farsi promotore di fermare quello che è veramente uno smembramento di un Paese, in un momento storico in cui invece c'è bisogno di unità. Intanto c'è una valenza di natura politica, centro-sinistra è compatto, unito si allarga, cresce in Toscana, difende le peculiarità della Toscana e la nostra autonomia è quella di indire e richiedere l'indizione di un referendum, è un atto voluto dalla Costituzione, stiamo difendendo la Costituzione al cospetto di una norma voluta dal governo Meloni che fa contenta solamente la Lega, che divide l'Italia, che fa male alla Toscana, che differenzia in maniera eccessiva le normative per cui le regioni dovrebbero poi impegnarsi. Quindi è una difesa della nostra peculiarità e nel farlo abbiamo il coraggio di assumersi una responsabilità importante e soprattutto di unire un fronte politico nuovo. Sarebbe utile perché la Toscana ha sicuramente un'esperienza in materia di gestione dell'ambiente, dell'energia, in parte anche dal punto di vista dell'urbanistica piuttosto che della sanità e questa riforma aumenta i livelli di autonomia e quindi di gestione dei servizi più vicini ai cittadini e quindi con maggiore capacità di controllo, sia da parte dei toscani sia da parte delle imprese. Sicuramente c'è un tema che è quello delle risorse su cui porre attenzione, ma il Sud deve uscire dalla sindrome dell'assistenzialismo. Non è possibile, bisogna al contrario valorizzare nel rispetto naturalmente dei principi e dei valori costituzionali e quindi di garantire a tutti i livelli essenziali delle prestazioni, ma bisogna valorizzare gli amministratori virtuosi che a parità di condizioni economiche garantiscono la gestione migliore di servizi più vicini ai cittadini e alle imprese. È una sfida, ma è una sfida verso l'alto, non verso il basso. Dunque io sono partita da quello che dice il terzo comma dell'articolo 116 e quindi le caratteristiche di fondo di questa legge che è una legge procedurale. È una legge dove si attiva una procedura senza però prendere in considerazione quello che dice la Costituzione, quello che dice il terzo comma dell'articolo 116 che ricordo regola le regioni a statuto speciale, la loro autonomia che è prevista da statuti che sono specifici e che vengono approvati da legge costituzionale. Poi abbiamo una legge ordinaria che darebbe tutta una serie di poteri alle regioni. Però cosa c'è che non va in questa procedura? Non rispetta l'articolo 116 dove mi viene a dire dove l'articolo 112, il terzo comma, prevede ulteriori forme di autonomia. Quindi delle forme che sono qualcosa di specifico, di limitato rispetto a quella che è l'autonomia delle regioni a statuto speciale. L'autonomia differenziata è nell'interesse dei cittadini toscani e qualora ci eleggeranno la guida di queste regioni noi sicuramente chiederemo per tante materie l'autonomia differenziata. Ma lo faremo anche quando siamo sicuri il Presidente Gianni farà ancora un ulteriore giravolta. Prima era a favore dell'autonomia differenziata, poi è arrivata la SLA e c'è stato questo cambio di posizione chiaramente imposto con la nuova dirigenza del PD e sicuramente il Presidente di questa regione non potrà fare a meno che andare a chiedere l'autonomia differenziata su alcune maniere e noi saremo al suo fianco e vorremmo e pretenderemo che anche il Consiglio regionale si possa esprimere nel merito e non come fa il PD e questa sinistra ormai così allargata nella ideologia e nella gestione del potere. Beh, una occasione stramaledettamente persa quella con il Governatore Gianni per altra assente oggi su un tema che veritava ben altra importanza in Aula perché avremmo sicuramente potuto affrontare l'opportunità che rappresenta l'attuazione di questa previsione costituzionale per un regionalismo compiuto finalmente che avrebbe potuto perché no riaccendere anche qualche speranza civica e politica in questo Paese e anche in questa regione invece no. Ci troviamo inchiodati in un dibattito a seguito della richiesta del PD di tentare il referendum su un tema che in realtà è stato accompagnato fino all'ultima legge quadro dalla sinistra di questo Paese, non soltanto Toscana. Noi riteniamo che questa sia una legge pasticcio che non risponde certo all'esigenza di far funzionare meglio i livelli istituzionali del Paese. La nostra Costituzione parla di un regionalismo cooperativo e non competitivo. In questo modo, con questa legge che fa l'atto non ha stabilito prima i livelli essenziali delle prestazioni, non ha messo a disposizione risorse per riequilibrare le diseguaglianze che rischiano invece di aumentare fra regioni più forti e regioni più deboli. Noi rischiamo di creare in Italia 20 staterelli che sono insignificanti nei confronti di entità come l'Europa della quale facciamo parte. Dall'altro questa legge che risponde di più alle spinte un po' secessioniste di una forza politica che sta al governo va letta in un combinato disposto con l'altra legge che è quella sul premilato che invece risponde all'applicazione delle spinte diriciste di un'altra forza politica di destra che sta al governo, vale a dire quella di avere un capo dell'esecutivo eletto direttamente dal popolo e difficilmente controllabile sia dal Presidente della Repubblica che dal Parlamento che con quella legge vengono oggettivamente indeboliti. Quindi da una parte si spinge alla disgregazione, dall'altra si vuole creare il capo dei 20 staterelli che rischiamo di creare nel nostro Paese. Ecco perché siamo preoccupati e abbiamo indetto questa iniziativa assieme ad altre cinque regioni per chiedere il referendum che abroghi la legge 86 proposta al Ministro Calderoli in maniera totale o in maniera parziale se non fosse ammissibile da richiesta di abrogazione totale. Da cronache e commenti è tutto. In questa ultima seduta del Consiglio regionale si è trattato un tema specifico perché il Consiglio, come abbiamo detto, era improntato su quel tema, l'autonomia. Nella prossima puntata ovviamente ci saranno altri temi nel Parlamento regionale che saranno dibattuti e che andremo a vedere attraverso la nostra trasmissione. Ci rivediamo la prossima settimana.